Come vedi sono qua C'è una notte tiepida, un vecchio blues Da fare insieme in qualche posto accosterò Quella là sarà la nostra casa ma credo che meriti di più Ma intanto sono qua io e ti offro di ballarci su E' una canzone di cent'anni almeno A volte le differenze vengono fuori Io credo che tra il gruppo delle squadre, dei pretendenti alla promozione E quelle che invece vogliono salvarsi C'è una differenza sulla carta di valori economici e tecnici Adesso abbiamo tempo perché domenica prossima stiamo fermi Abbiamo tempo per concentrarci sul prossimo impegno Perché sarà martedì prossimo a Imola Il turno di Coppa Italia E se lavoriamo bene, arriviamo pronti a quella partita E proviamo a mettere tutte le nostre energie Per fare una buona partita a Imola e in Coppa Italia Riusciamo a cancellare questo menutile Altrimenti comunque continueremo a lavorare a testa bassa Per arrivare alla salute Allora, niente, sono soddisfatto della partita Ha giocato molto Guadagnola Che dieci minuti forse non pensava di farli in un campionato intero Oggi ne ha fatti 9.30 E rimangono 30 secondi da qui alla fine dell'anno Scherzo L'entusiasmo cresce E' chiaro che ci si comincia Molto spesso cominciano a chiedere una serie A La promozione Beh si vedrà Se continuano entusiasmo Se continuano i risultati sportivi Se si potrà vedere A questo punto qua Se facciamo il miracolo di farle due Possiamo fare un po' più grande E fare la serie A Perché no? Quest'anno ci sono due promozioni Potrebbe essere un programma che si realizza di nuovo